Sono 43 nuovi casi in provincia. L'aggiornamento dell'ASP Nissena del 22 agosto relativa alle 24 ore precedenti parla infatti di 43 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. E per l'esattezza 18 pazienti di Gela, 13 di Caltanissetta, 4 di Niscemi, 3 di San Cataldo, 2 di Mazzarino, 2 di Mussomeli e 1 di Butera. 2 i ricoveri in degenza ordinaria, 1 di Caltanissetta e 1 di Gela, 58 i guariti inoltre dal Covid-19, 13 pazienti di Caltanissetta, 10 di Gela, 9 di San Cataldo, 5 di Sommatino, 4 di Riesi, 3 di Delia, 3 di Mazzarino, 3 di Montedoro, 3 di Mussomeli, 2 di Resuttano, 2 di Sutera e 1 di Campofranco. In tutta la Sicilia l'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente è pari a 836 casi in tutta Italia, 10.418 secondo il bollettino giornaliero del 22 agosto scaricabile dal sito tematico dedicato al Covid-19 del Ministero della Salute.